Si avvicina Halloween, è nella serata più paurosa dell'anno, l'unica cosa che può fare veramente paura a queste due squadre è perdere il derby. Un buon pomeriggio dal campo sportivo finale di Silicagnana per la quarta giornata di campionato tra Cascio e Filicaia Diavoli Rossi, ennesimo derby Garfagnino in terza categoria, un derby molto importante perché il Filicaia è al primo posto in compagnia di New Team e Castiglione a sette punti e il Cascio è a cinque punti quindi ancora poco distante con una squadra attrezzata per il campionato. Ecco le squadre che entrano in campo, il Cascio oggi vestito di giallo con pantalonici neri a ricordare un po' il Borussia Dortmund e invece il Filicaia tenuta blu con una striscia verticale bianco e rossa. L'abito è il signor Jacopo Bertini di Lucca, ecco le due formazioni, partiamo dal Cascio in Porta Biagioni, poi Baci, Turri Nicolò, Boggi, Tognarelli, Niccoli, Catalini, Cecchi, Bagliocchi, Legoli, Santoni, Panchina Adami, Triti, Luti, Vangi, Cassettari, Giannasi, Dadoveri, Piagentini e Turri, Mister Bonini. Invece per il Filicaia il portiere è Rossi, poi Giannotti, Valienzi, Satti, Pellegrinetti, Gemma, Muriani, Cavani, Fritz, Diego, Longhi, Fritz, Daniele, poi in panchina Puppa, Vecchi, Contadini, Lenzi, Triti, Donati, Grandini, Magnani e Micchi, Permista e Gabriele, Zudas a tra poco inizio del match. Inizia ora Cascio, Filicaia. Bagliocchi e la gioca veloce, attenzione Niccoli, mette dentro, attenzione Rossi para con Mancino dentro, attenzione, spizzata di testa di Valienzi e poi Bagliocchi mette fuori Grinetti, si deciderà una buona parte della partita che è Niccoli, molto bene nel controllo, attenzione prova a scappar via, Cecchi, Faperno, gran cosa, falla per Niccoli, la posizione che non si riguarda, Niccoli, Rossi, si supera, paretoni di Rossi, azione fantastica del Cascio. Mi sono i minuti difficili, Satti alto, cerca le Pellegrinetti, attenzione, Caccio di rigore, minuto 11.30, fischia ora l'albitro, va Satti con il destro, incrocia ed è gol, 1-0 Filicaia. Dei giocatori con lo stesso cognome, allora può ripartire il Cascio, Cecchi, ancora da perno, gran giocata di Cecchi, che prova a innescare Niccoli, che la tiena in campo, comunque il gran giocata del 9 del Cascio, ancora uno contro uno, potrebbe da fidarsi a Bacci, ed è quel che fa Bacci, in aria, tiro, deviazione, la Pellegrinetti ancora lì, Maiocchi, Maiocchi si appoggia, a Genchi, attenzione, Caccio di rigore, va sul dischetto contro Rossi, col mancino va Cecchi, spiazza Rossi, il capitano la riporta sull'1-1. Longhi, balanza di Filicaia, siamo vicini alla mezz'ora, Frizz, ancora Frizz, molto bravo, e Ruletta, tiro fuori, ma gran giocata. Regioni, Frizz, di testa, Pellegrinetti contro Bocchi, ancora Frizz, attenzione, Frizz in aria, sterzata, Bocchi, contatto, non è da rigore per l'arbitro. Bocchi, per Bagliocchi, ancora Bagliocchi, prova a sterzare in aria molto bene, allora Cecchi, Cecchi, ciò di Valienzi, ancora Cecchi, alto, con il mancino, attenzione, dentro, Santori, Santoni, da solo, di testa, butta fuori. Lanza il cascio, Regoli, crossa, attenzione, Valienzi, di testa Cecchi, esce Rossi, mamma mia. Attenzione, errore, allora Pellegrinetti, fuori di poco, Pellegrinetti, fuori di poco. No, Satti. Catalini di esterno per Niccoli, Niccoli molto bravo, si affida a Bocchi, attenzione, palla dentro, va per, Bagliocchi! Turri. Ancora Bocchi, Bocchi, prova a saltare l'uomo, attenzione Bocchi, prova a entrare in aria, Cecca Cecchi, colpo di tacco, gran cosa, che gol! Bocchi, coloso, che azione, mamma mia, tacco di Cecchi che inventa per Bocchi, mamma mia! Bocchi, Calcio spinge per cercare il terzo, allora Bocchi ancora avanza, Bocchi, Bocchi, crossa, per Cecchi che si la tiene in campo, si appoggia a Bocchi, Federico Boccia, dentro, Niccoli, in due tempi rossi, spinge il cascio, e la palla per Giannotti, ma Santoni chiude, Niccoli, può avanzare uno contro uno contro Gemma, ancora Niccoli, 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 va con il sinistro da lontano, fuori, calcio d'angolo, Lutti, lancio lungo per Bocchi, posizione regolare, perché ha perduto la propria metà capa, allora Bocchi, 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 avanza Bocchi, 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 Rossi, parata, monumentale, uno dei migliori dei filicaia oggi Rossi! Alto solo Vangi per il cascio, non si sbilancia troppo, eh no, va Micchi, va Micchi, con il destro, attenzione, due tempi, Gemma, Gemma, con l'istinto del puntero, 2-2, ma che derby, ma che derby, manca 30 secondi alla fine Micchi, rimontato da Piagentino, Ricordini, allora può partire il cascio che ci vuole provare, Lutti, lancio lungo per Vangi, contro, Vangi, 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 Gemma, chiusura, mamma mia, ma cosa ha rischiato il filicaia, anche di nuovo, finisce, non può giocare neanche il caccio d'angolo, assurdo, che partita, 2-2, mamma mia, che partita, grazie, grazie a tutti per la visione, alla prossima!